ciao amici benvenuti sul mio canale oggi non vi spiegherò come si smonta una guarnizione di un oblò perché ci sono davvero tanti video su youtube molto validi l'unico consiglio che vi posso dare che ho trovato utile è quello di inserire la guarnizione metterla a bagno una decina di minuti con acqua bollente comunque acqua molto calda questo la rende più flessibile ed è di più facile applicazione quello che volevo suggerirvi qualora col secondo anello di fermo della guarnizione quindi quello interno della vostra lavatrice trovate un modello simile a questo se ne sono di diversi tipi ma questo è quello forse più antipatico ricordatevi che quando andate a inserire l'anello nella guarnizione la vite deve essere tutta stretta quindi tiratela fino in fondo in maniera che il filetto sia tutto esterno quindi così la inserite e poi col cacciavite cercate di regolare in maniera che possa fare presa sulla vostra guarnizione so che per alcuni può sembrare una cosa scontata per me non lo era ho seguito il suggerimento di mia moglie e quindi volevo trasmetterlo anche a voi ciao alla prossima